Perché è stato un primo momento di confronto richiesto dal Premier su quello che bisogna fare per rafforzare l'iniziativa di governo in questa fase in cui tutti dobbiamo mettere in conto un di più di impegno proprio per riavviare le attività produttive per dare a questo Paese il futuro che merita a partire dalle nuove generazioni. Quindi abbiamo incominciato a discutere e spero che nei prossimi giorni si possa arrivare ad una sintesi condivisa. Tensioni nel governo quindi rientrate? Ma non si tratta di tensioni, si tratta di un confronto rispetto a scelte che sono scelte impegnative. Noi faremo un decreto per investire 55 miliardi di euro che sono risorse che stiamo prendendo dal futuro dei nostri figli e destinare bene queste risorse è un imperativo che il governo deve avere. Nonostante questa sintesi per ora dei tre mesi la Lega minaccia di scendere in piazza e nello stesso tempo voi invece dite i migranti servono all'agricoltura. Ecco è una forza lavoro che comunque serve per produrre. Quale sarebbe il passo successivo? Ma io dico alla Lega ci sono centinaia di migliaia di lavoratrici extracomunitarie che nel nostro Paese sono impegnate nelle nostre case. Vogliamo metterle in condizione di avere un contratto di lavoro legale e vogliamo mettere le famiglie nella condizione di non essere costrette a ricorrere al lavoro nero per assistere gli affetti più cari? In agricoltura tutte le associazioni agricole denunciano una carenza di manodopera. La Lega si vuole girare dall'altra parte e permettere che nei campi rimangano a marcire i prodotti per i quali gli agricoltori hanno lavorato per un anno o vuole dare una mano a risolvere questo problema? Noi non stiamo facendo una cortesia ai cittadini immigrati dando un permesso di soggiorno. Stiamo semplicemente registrando il bisogno che abbiamo di avere manodopera aggiuntiva che non è in contrasto con gli italiani. Tutti gli italiani che vogliono andare a lavorare in agricoltura danno la disponibilità e possono tranquillamente farlo. Ha sentito l'ex premier Renzi come l'Italia Viva è soddisfatta di questo incontro e sarà un pungulo per il governo in futuro o il governo dovrà preoccuparsi? No, il governo non dovrà preoccuparsi se il governo lavora per dare risposte concrete ai problemi del Paese. Noi siamo stati dipinti in questi mesi come quelli che alzano la voce, come quelli che creano problemi. Io sfido chiunque a trovare una proposta strumentale avanzata da me per il mio ministero o anche come capo delegazione per le questioni che abbiamo posto all'interno del governo. Semmai siamo stati quelli che hanno visto un po' prima i problemi. Io credo che bisogna essere un po' meno prevenuti verso Italia Viva, verso Matteo Renzi e verso questa capo delegazione che pone problemi che sono i problemi che derivano anche dalla conoscenza di quello che è il mondo produttivo italiano.